Movida Loca Television e per l'inaugurazione di questo meraviglioso ristorante Cristo Show non ci dilunghiamo più di tanto guardiamo cosa è successo e mangiamoci su Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e quindi donne che ci state guardando mi raccomando chiedete info aggiungendo e mangiamoci su oppure Mario Pelliccia 2 oppure Enzo Paudice Pelliccia Bis Grazie a tutti 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 Numero 25, casa al nuovo di Napoli, però voi dite, ma io voglio sentire la voce di qualcuno, come devo fare? Diamo qualche contatto. Allora, per le info, per le vostre prenotazioni, o per serata, o per evento, per qualsiasi sia il motivo di quella telefonata, l'info sono 334-1710-045, mentre il telefono fisso è 081-012-5475. Vabbè, sono comparsi qui sotto in sovraimpressione, quindi voi potete anche leggerli, ma ricordiamo i prossimi appuntamenti. Stiamo parlando della festa degli innamorati, ossia il 14 febbraio, e mangiamoci su, quindi, festa degli innamorati, 14 febbraio, vedrete il post in bacheca sulla bacheca di Facebook, con il flyer illustrativo di questa bellissima serata all'insegna di qualità e divertimento, in più, in più vi aspettiamo, donne, 8 marzo, 8 marzo, festa delle donne, vi vogliamo, insomma, spumeggianti, briose, frizzanti, senza marito, senza fidanzato, servizio navetta offre, mangiamoci su, quindi, non diciamo più nulla, telefonate a questi numeretti qui, che vedete in sovraimpressione, vi diranno tutto. Io, Mario, non finisco più di ringraziarti, ti ringrazio per questa bellissima serata, ringraziamo i cameraman, tutto il tuo staff, che sono, dico, professionisti come te, non aggiungo altro, perché gli aggettivi sono soltanto periodici, non finiscono mai. E io ti ringrazio e ricorda, dove i grandi eventi contano, dove i grandi locali contano, io ci sono. Movida Loka Live Television, vi salutiamo.